Noi dobbiamo tornare ad essere consapevoli del valore di quello che abbiamo intorno, noi siamo una superpotenza della qualità. La cucina italiana è altro, la cucina italiana è sintesi, è ricerca, è contaminazione, sono secoli di storia che hanno permesso di avere un contesto che va rappresentato come un unicum, perché questo è, agganciando però a questo un percorso che ci porterà nel 2025 all'esito e al risultato che io do per scontato, ma un percorso che ci permette di raccontare in tutto il mondo questa nostra potenzialità. Questa targa è stata già donata a tanti ristoranti nel mondo, continueremo a farlo, a quelle eccellenze che si mettono a disposizione come ambasciatori della cucina. In questo gioco di parole che c'è alla fine dove la ho di io amo e sostituiva un cuore tricolore diventa io sono la cucina italiana in inglese perché ognuno di quelli che partecipa a questa campagna è protagonista di un risultato che andiamo a raggiungere, far crescere la nostra Italia e far crescere quel benessere che la nostra Italia in tanti ambiti è riuscita a portare nella storia che noi crediamo di poter continuare a realizzare con il nostro lavoro e con la nostra consapevolezza del ruolo di noi italiani su questo pianeta.